sarebbe veramente scandaloso ma allo stesso tempo ne sarei estremamente contento ne abbiamo già parlato in un altro video approfondiamo perché sono uscite nuove scottanti informazioni che fanno presagire presupporre che questa cosa effettivamente accadrà prima di cominciare però passate qui sotto in descrizione scaricate one football la migliore applicazione per contribuire al mondo del calcio e che è anche sponsor di questo canale youtube di cosa stiamo parlando ovviamente la notizia del giorno è quella secondo la quale cristiano ornaldo sarebbe il candidato numero uno alla vittoria per il pallone d'oro il sesto pallone d'oro cui l'inter la stagione 2018 2019 che cosa c'è di scandaloso direte voi dovresti essere nessuno contento certo sarei felicissimo di vedere un calciatore da juve vincere il pallone d'oro sarei felicissimo per cristiano perché andrebbe a superare messi nella classifica sono cinque pari ma devo dire la verità sarebbe qualcosa di scandaloso probabilmente perché perché cristiano l'anno scorso non ha meritato il pallone d'oro o almeno o almeno facciamo un discorso generale la notizia è la seguente van dick spero che si pronunci così perché in un altro video ho detto per una vita van dyke e ho preso dei nomi giustamente van dick dovrebbe dirsi van e traduzione inglese dell'organo riproduttivo maschile dovrebbe essere stato superato da cristiano stessa cosa messi messi ricordiamolo l'anno scorso ha fatto 50 gol non mi ricordo se c'è un quantun gol in 50 partite o 50 gol in 51 partite comunque 50 e 51 tra gol e partite cristiano sicuramente ha fatto un'ottima stagione la juve come prima stagione la juve non ha raggiunto questi livelli cristiano ha fatto sei gol in champions league messi ne ha fatti 12 però non andiamo a guardare le statistiche guardiamo il passato perché cosa dice il regolamento del pallone d'oro il pallone d'oro deve andare al giocatore più forte in questo momento sulla faccia della terra ok quando l'inter vince al triplete 2009 2010 in tanti rimasero sorprese scandalizzati dall'assenza di schneider di milito nella top 3 addirittura milito forse non era presente neanche nei 25 30 candidati al pallone d'oro e già questo è scandalo però il regolamento dice che il pallone d'oro va il più forte la del messi in quel momento era assolutamente più forte vinse il pallone d'oro con xavi iniesta come secondo e terzo classificato triade del barcellona tridente del barcellona trilogia del barcellona e inter completamente fuori dal podio ok è successo questo poi cos'è accaduto che l'anno scorso complice il fatto che cristiano ornaldo ha lasciato real madrid per approdare la juventus il real madrid che vinceva la champions da tre anni di fila ora mi sfuggono proprio i numeri esatti ma ricordiamo bene quel grande ciclo del real dovrebbe essere tre champions in quattro anni una roba del genere o addirittura quattro champions in cinque anni va bene cristiano ornaldo che veniva da una serie di pallone d'oro infinita perché in quel momento nel giocatore più forte del mondo non ottiene il premio individuale poiché viene dato a modric che quest'anno neanche rientra nei 30 per la prima volta nella storia che ha vinto il pallone d'oro l'anno scorso quest'anno non è neanche il liste non lo può vincere il liverpool ha vinto la champions league due finali di fila una persa con il real madrid una vinta quest'anno contro chi era oddio mi sfugge col tottenham un lapsus un deja vu liverpool che sta rimostrando di essere la squadra forse più importante più forte nel panorama calcistico europeo mondiale da due anni a questa parte ok con un allenatore fantastico uno schema fantastico uno satura fantastica dei giocatori fantastici un difensore fantastico che l'anno scorso praticamente non è mai stato saltato su azione che è van dick con sala firmino mané che su un attacco straordinario con un centrocampo solido insomma un'ottima squadra allison che probabilmente anzi è il miglior portiere del mondo e probabilmente vincerà il porti il premio relativo al portiere non mi ricordo come si chiama jashin premio jashin oggi veramente va vado così però il discorso è se nell'anno del triplete a messi ha vinto perché il più forte del mondo io sposo questa filosofia il pallone d'oro va dato al più forte del mondo ok è messi in quell'anno lo era senza se senza ma l'anno scorso perché è stato dato a modric che non c'entrava assolutamente niente con i livelli di ronaldo di messi e quel pallone d'oro era assolutamente di cristiano ronaldo allora se l'anno scorso ronaldo lo meritava gli è stato scippato perché a tutti gli effetti si è trattato di un furto per darlo a modric quest'anno non avrebbe senso darlo a ronaldo per compensazione perché quel pallone d'oro di modric l'anno scorso era di ronaldo questo pallone d'oro per quanto mi riguarda è di un giocatore del liverpool e lo darei a van dick perché finalmente dobbiamo rompere gli schemi tornare a far premiare il giocatore che comunque ha reso meglio in tutta la stagione e c'è da scegliere su su liverpool perché sono veramente tanti lo merita salà lo merita mani lo merita alison lo merita van dick lo meritano in tantissimi d'accordo però dobbiamo metterci d'accordo lo diamo al più forte del mondo o lo diamo a quello che ha fatto vincere la squadra perché messi ha fatto 50 gol in una stagione ronaldo ne ha fatti 28 mi pare una roba del genere i conti non tornano e perché messi è andato più avanti in champions e allora perché darlo a ronaldo non sto capendo tutti gli anni sembra che siamo punto a capo le regole non esistono più tutti gli anni le ricominciano da zero e allora questo premio sta iniziando a diventare una farsa tra l'altro piccola parentesi aperta e chiusa momentaneamente si vocifera di un incontro di cristiano ronaldo e chi gestisce il pallone d'oro effettivamente una cena la settimana scorsa insieme a paratici non abbiamo ovviamente foto non abbiamo testimonianze non riusciamo a dare con certezza una definizione a questa notizia vera o falsa che sia però il succo non cambia se ronaldo quest'anno vince il pallone d'oro e non l'ha vinto l'anno scorso è uno scandalo